Sentiamo quotidianamente parlare di Covid-19, di numero di contagi, di tamponi, di decessi legati al virus, così come spesso si parla della ricaduta economica del lockdown. Ma c'è un altro aspetto molto importante che viene purtroppo sottovalutato ed è l'impatto della pandemia sulla salute mentale. Per questo abbiamo invitato oggi, buongiorno in studio, il dottor Giancarlo Ardissone, che è il direttore del Dipartimento Integrato di Salute Mentale e Dipendenze dell'Asluna Imperiese. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, la ringrazio per la possibilità di questa intervista, perché sicuramente il problema della salute mentale è un problema estremamente sentito da noi, che siamo i primi a davvero affrontare tutta una serie di sintomi. Noi viviamo un momento estremamente drammatico, è un momento che all'inizio dell'anno scorso nessuno poteva pensare che potesse succedere. Noi viviamo in una condizione di estremo disagio per l'incertezza, la confusione. Abbiamo capito che le cose che erano sicure fino a un anno fa immediatamente e improvvisamente hanno perso tutta una serie di sicurezze. Noi sentiamo tutta una serie di commenti alla televisione di specialisti, sia da un punto di vista medico, sia da un punto di vista economico, che rappresentano una realtà estremamente critica. Dato che il fondamento della nostra salute mentale è la sicurezza, in una dimensione come quella che noi viviamo, sicuramente le persone, anche le persone che hanno un'ottima resilienza, un'ottima capacità di sopportare delle situazioni difficili, possono essere messe in crisi. E a maggior ragione le persone che di per sé hanno una fragilità presentano tutta una serie di disturbi che sono ansia, depressione, disturbi del sonno e faticano molto a poter affrontare anche la realtà quotidiana. Il fattore che fondamentalmente è l'indicatore più efficace della nostra salute mentale sono la numerosità delle nostre relazioni. Più relazioni positive io ho con le persone, più riesco a interagire con le persone e più riesco ad avere una buona condizione di benessere. E questa situazione di contagio fondamentalmente ha messo proprio a durissima prova questa cosa, perché c'è stato detto che dobbiamo stare distanti ed è giusto stare distanti. C'è stato detto che dobbiamo non più partecipare a tutta una serie di attività, comprese il lavoro, molte persone vivono il smart working, le loro attività, e questo poi non possiamo più andare in un bar, non possiamo andare in un ristorante, non possiamo andare in un cinema, non possiamo andare in un museo o con un'estrema difficoltà. E queste cose che sembrano abbastanza, tra virgolette, banali con la morte, con la rianimazione, con il ricovero, però sono estremamente essenziali per il nostro per il nostro benessere. E io penso che in questo momento ci sarà sicuramente la preoccupazione maggiore sul parte fisica e anche sulla parte economica. Però secondo me quando il vaccino, si spera, riuscirà a vincere questo benedetto virus dovremo affrontare la ripresa. E la ripresa ci farà vedere un mondo che è sicuramente molto diverso da quello che era alla fine, all'inizio del 2020. E molte persone, secondo me, dovranno essere aiutate, non tanto da specialisti, anche da specialisti in determinate condizioni, però le persone dovranno essere aiutate a potersi riprendere un pochettino la loro vita e fare in modo che queste abbiano la possibilità di socializzare nella maniera più adeguata. Forse è presto per avere dei dati, visto che il 2020 è appena terminato, ma facendo un quadro della provincia d'Imperia, ha notato un incremento, una diminuzione, non so, di dipendenze, di disturbi che possono essere per avere stress, ansia, perché per esempio sappiamo che sono aumentate le vendite di farmaci per l'ansia, per l'ansiolitici. Allora, questo è, diciamo che il discorso di tutta la sanità è stata fondamentalmente focalizzata sull'affrontare la criticità dell'epidemia. Perciò molte persone che arrivavano ai servizi, sia servizi medici, non per il covid, e sia servizi, diciamo, di psicologia e di psichiatria, non hanno più trovato la disponibilità a poter affrontare in quella dimensione il loro problema. Un po' perché i servizi hanno ridotto la disponibilità, un po' perché c'è stata questa pressione molto forte di stare a casa, di non frequentare dei posti dove si poteva essere degli assembramenti e perciò fondamentalmente noi abbiamo trovato una diminuzione di accessi. Nelle epoche in cui c'è un malessere generalizzato anche le persone che hanno problemi non li affiorano in una maniera così forte e perciò fondamentalmente i ricoveri non sono stati di più, anzi sono stati meno di quelli che ci attendavamo e anche i nostri pazienti temevano di dover affrontare il rischio di andare in ospedale, di andare in ambulatorio. Abbiamo cercato di trovare tutta una serie di accorgimenti per cercare di evitare gli assembramenti. Anche la sala d'attesa non può più tenere più di quattro persone, gli stessi colloqui sono diminuiti. Perciò io penso che la situazione attuale abbia fatto che molti andassero a fare una terapia autonoma e vai in farmacia, ti prendi un ansiolitico, cerchi di dormire la notte e vai avanti così. Quando ci sarà la ripresa, perché bene o male la ripresa ci sarà, ci sarà un rimbalzo. Io sono abbastanza fiducioso che le cose possano essere molto più efficaci e migliori di quello che noi prevediamo. Però sicuramente le persone più fragili e più deboli sentiranno di più questo tipo di ripresa. Come dicevo, credo che questo sia un dato da tenere conto e di attrezzare i vari servizi anche a livello di comunicazione. Anche voi, giornalisti, televisioni, devono fondamentalmente creare una dimensione di fiducia che possa permettere a queste persone di poter più efficacemente riuscire a trovare delle soluzioni positive. Per quanto riguarda quelle che possono essere le conseguenze, come dice anche lei, della ripresa, pensiamo soprattutto ai giovani, soprattutto all'adolescenza, che è una fase critica, come sappiamo, che in questo momento non sanno se andare a scuola, lo sanno all'ultimo minuto, se andare al 50%, quindi separati dai compagni, alcuni lo fanno da casa, altri vanno a scuola. Come inciderà questo? Lei da medico, lo so, non ha la sfera di cristallo, però secondo lei sulla mente appunto dei giovani questa difficoltà di relazione, di socializzazione? Vedi, noi abbiamo imparato, specialmente negli ultimi decenni, che il nostro cervello è un organo estremamente plastico. Il nostro cervello ha la possibilità di assumere tutta una serie di informazioni e potersi veramente consolidare e creare con un certo tipo di assetto. Questo fondamentalmente è estremamente importante nell'infanzia, nell'adolescenza, nell'età giovanile. La maturazione del cervello fondamentalmente finisce intorno ai 25 anni. Perciò questa situazione Covid avrà sicuramente un rimbalzo estremamente problematico nei ragazzi, nei bambini e negli adolescenti, perché fondamentalmente questa impossibilità di potersi frequentare, questa possibilità di potersi toccare, questa possibilità di poter convivere in una maniera affettiva tutta una serie di emozioni, in questo momento è abbastanza, non è abolita, ma sicuramente è ridimensionata in una maniera molto grande. Questo ricordo non sparirà in tempi molto brevi, sarà un qualcosa che fondamentalmente dovrà essere affrontato. Per certi sarà addirittura una condizione traumatica che dovrà anche essere curata per ristabilire una normale capacità di socializzare. E questo credo che sia il campo su cui tra qualche mese, quando la situazione sarà normalizzata, fondamentalmente ci dovremmo occupare. Invece per quanto riguarda un'altra fascia d'età, quella degli anziani che sono rimasti da soli, sono isolati nell'RSA, quelli che hanno dei problemi e quelli che sono a casa anche, diciamo, come lei ha vissuto? Io credo che le persone anziane, quelli che sono ricoverati in residenza, siano le persone che abbiano maggiormente sofferto, perché avere la possibilità di trovare conforto con i propri familiari e avere la visita dei parenti più o meno stretti è sicuramente un qualcosa che allevia molto le sofferenze delle persone che sono ricoverate. Molte persone, questo l'abbiamo visto anche nei vari riprese televisive, hanno lasciato tutta una serie di commenti, perché sono addirittura morte da sole, senza nessun tipo di conforto. Questo ha creato un gravissimo disagio di loro e un grandissimo disagio delle famiglie. Questo è anche uno di quegli aspetti che genera una condizione post-traumatica. Questo sicuramente nei familiari di persone che sono state afflitte da questo Covid, che sono mancate, e in Italia ne sono mancate più di 70.000, perciò è un numero estremamente importante, fondamentalmente genera un senso di preoccupazione molto grande. Sugli anziani, sia ricoverati che non ricoverati, anche lì bisognerà prestare un'estrema attenzione per poter fare in modo che queste persone abbiano un certo tipo di riabilitazione. Invece, non so se siete riusciti a fare, avete avuto qualche input su questo aspetto, se vi hanno detto quali sono i vostri pazienti che ancora venivano o altri, quali sono le paure maggiori in questo momento, se è la paura di prendere il Covid, se è la paura di attaccarlo al proprio caro, magari anziano, se è quella di perdere il lavoro da parte di magari un giovane, cos'è che spaventa di più? Quello che spaventa di più è l'insicurezza, è l'incertezza, è la confusione. Ma questa cosa un giorno finirà? Per quanto tempo dovremo ancora fare? Quanto ci sarà la disponibilità di una reale cura di un vaccino? Poi è declinato in ho paura di prendermi il Covid, se prendo il Covid che cosa succede? Però la cosa fondamentale è proprio il senso, diciamo, della disperazione che non c'è un qualcosa di sicuro, di certo, che ci possa per un certo momento sollevare. E perciò ansia, angoscia e fondamentalmente depressione. Cioè poi con un ritiro... Cioè anche le persone che... Noi abbiamo un po' visto delle persone che hanno fatto... non andavano a lavorare, lo smart working. Lo smart working fondamentalmente all'inizio era stato considerato una cosa buona, nel senso che io me ne sto a casa, lavoro forse anche di più di prima e fondamentalmente riesco anche a avere dei vantaggi, non devo uscire il tuo caso. Però questo fondamentalmente poi non permette quella comunicazione, quella socializzazione che si ha anche nell'ambiente di lavoro. Perciò ad un certo punto inaridisce anche la stessa attività. Un'attività che può anche essere molto piacevole e poi diventa un qualcosa di routine e genera anche questo una difficoltà. Non credo che lo smart working, come le lezioni a distanza, abbiano da un punto di vista psicologico un reale vantaggio. Neanche economico secondo me è un reale vantaggio perché le persone fondamentalmente... cioè noi siamo degli esseri che devono gregari, che lavoriamo, che viviamo in gruppo, abbiamo bisogno di socializzare, noi diamo delle energie alle persone che stanno insieme con noi e riceviamo delle energie delle persone che stiamo con noi. Perciò se perdiamo questo sicuramente poi entriamo in una situazione di difficoltà. su invece un dato, se voi l'avete, non lo so, sulle persone che erano già depresse, che erano già in cura, avete riscontrato un aumento di suicidi? No, questo è abbastanza caratteristico. Quando tutti stanno male, quelli che di solito quando gli altri stanno bene stanno male, fondamentalmente diminuiscono la sintomatologia di tipo psichiatrico, gravissime depressioni e tentativi di suicidio o suicidio. Durante le guerre fondamentalmente la patologia psichiatrica non scompare, però diciamo che si nasconde un pochino e fondamentalmente non diventa così manifesta. Nei momenti in cui, quella è la preoccupazione, invece nei momenti in cui le persone cominciano a star meglio e sicuramente quando questo Covid finirà ci sarà un rimbalzo positivo, molti si approprieranno di tutta una serie di cose che attualmente sono completamente perdute. Le persone più fragili si accorgeranno di questo distacco e allora fondamentalmente aggraveranno la loro situazione di fragilità e sicuramente ci potrà essere, sembra paradossale, che quando potremmo stare un pochettino meglio le persone che hanno disturbi di questo genere si ripresenteranno e aggraveranno anche la loro sintomatologia. Grazie. Grazie.